Probabilmente non è stato un gran lanciano, ne siamo consapevoli, abbiamo fatto una prestazione sotto tono. Sono stati bravi anche loro perché ci hanno probabilmente imbrigliato in maniera migliore e non siamo riusciti a trovare delle alternative, vuoi per una giornata cattiva di tutti noi, vuoi per loro. Peccato perché comunque sia un'occasione grandissima, ma non cambia il nostro campionato, ci rimboccheremo le maniche e andremo a Crotone sperando di trovare almeno la prestazione. Che è quella del lanciano degli ultimi tempi. Sono state parecchie difficoltà perché avevamo preparato una partita in una maniera e probabilmente ci sono state delle difficoltà nel senso che era diversa la partita e quindi non siamo riusciti a trovare le contro ribattute. Però dovevamo essere bravi, dovevamo essere più bravi e serve anche questo per esperienza e niente, non cambia comunque il nostro campionato come dicevo prima. No, è stata una giornata complicata soprattutto dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista dell'impegno. Un po' abbiamo, non so, interpretato male la partita, non siamo riusciti bene a scendere in campo e loro ci hanno messo difficoltà soprattutto sul piano del gioco. Noi pensiamo sempre di scendere in campo e mettere sempre il 100%, non abbiamo mai pensato di entrare in campo e magari pareggiare o perdere la partita. Ci mancherebbe. Poi le giornate così ci stanno e non possiamo farci nulla. Anche troppo lunghi i reparti, almeno in queste otto gare di Maragliulo aveva abituato ad una squadra molto compatta. Sì, a parte quello ci hanno messo un po' in difficoltà a centrocampo perché erano sempre con l'uomo in più e quindi magari ci saltavano troppo facilmente e arrivavano troppo facilmente a concludere. Grazie.